New York, Statue of Liberty. Per milioni di emigranti, l'America tanto sognata cominciava qui, nella Liberty Island, un'isoletta situata a 4 km a largo di Manhattan. Quando arrivando via mare, essi raggiungevano finalmente la terra promessa, pieni di entusiasmo e di speranze, l'imponente figura di donna appariva loro come un emblema di speranza e libertà. Simbolo indiscusso della città e degli Stati Uniti d'America, la monumentale statua è opera dello scultore Frédéric-Auguste Bartholdi e di Gustave Eiffel. Realizzata inizialmente per ornare l'ingresso del canale di Suez, la grande signora fu poi donata dalla Francia agli Stati Uniti nel 1886, in occasione del Centenario dell'Unione. La maestosa statua ha un peso di 225 tonnellate e la sua robusta base si innalza per circa 100 metri sul livello del mare. Un ascensore consente di raggiungere agevolmente i primi 10 piani, mentre chi vuole salire ancora più in alto può proseguire a piedi per altri 12 piani e arrivare direttamente sulla corona. I visitatori più temerari possono inoltre raggiungere la fiaccola, dall'alto della quale è possibile godere di uno spettacolo sorprendente e avere Manhattan, Brooklyn e New Jersey ai propri piedi.